Alberto Labate, già docente universitario di sociologia dei conflitti e ricerca per la pace all'Università di Firenze e membro del movimento non violento, ha concluso sabato 23 febbraio il ciclo di incontri della Scuola di Pace organizzata dalla Caritas Diocesana con una relazione dal titolo L'Arte della Pace. Se si spende troppo per armamenti a danno delle spese sociali si indebolisce il paese, ha detto Labate. Il nostro paese ha aumentato le spese militari contrariamente a tanti altri, tra cui anche gli Stati Uniti. La guerra si elimina con un processo graduale, conoscendo se stessi e gli altri, mettendo in atto la non violenza. La prevenzione dei conflitti, ha proseguito Labate, si attua tramite un percorso non violento ben definito che inizia con la segnalazione precoce delle situazioni di rischio e prosegue con il riconoscere gli eventi sentinella e l'intervento precoce, ovvero un periodo di ascolto in cui aiutare i focolai di pace. Altri punti fondamentali del percorso sono le missioni di accertamento e le ambasciate di pace, persone che si fermano per lavorare a favore della pace, gemellaggi tra le scuole, creazione di ponti tra gruppi etnici diversi. A conclusione dell'incontro il professor Labate ha ricordato l'importanza di una cultura diversa. La pace non è assenza di guerra, ma è un atteggiamento positivo. La pace è giustizia, equità, equivalenza, ascolto e dialogo. Nella mia esperienza, ha concluso il relatore, uno dei punti importanti è il concetto di assertività, un atteggiamento cioè di ascolto dell'altro che non accetta di essere calpestato e risponde alla non violenza con il confronto, ponendo domande e problemi e dal confronto poi passare al dialogo.